Sì, la sento. Adesso si, mi dica. Sì, è il 22 settembre, un bonifico. Un bonifico Italia? Italia, sì. L'ha già fatto in passato? No, no, questa signora sì. Ok, quindi è il primo, su quale numero di conto lo facciamo? 40, 38, uno solo, mio amore. Non ho capito, scusia. Non ho capito, scusia. Grazie per la visione!